benvenuti all'appuntamento con il telegiornale sul canale 85 di tris come ogni giorno prima di andare in onda con il notiziario vediamo insieme gli argomenti principali ponte del mediterraneo sullo stretto di messina la regione siciliana compartecipa con un miliardo di euro la morte di fabio vita commozione a solarino un'intera comunità ha partecipato ai suoi funerali la questione autonomia scolastica il consiglio comunale di siracusa dice no grido d'allarme lanciato dalla lega record a canicattini un 50 settenne consegue ben 13 lauree e intende andare avanti lo sport con il calcio il campionato di serie d siracusa trapani inizia la sfida il presidente antonini e risponde all'invito del presidente ricci questi i titoli principali del nostro telegiornale tra poco in onda ma prima linea alla regia per i consigli il mio lavoro si basa su quello che vedo e come lo vedo ho scoperto di essere presbite e ho bisogno di un paio di occhiali da vicino da ottica quartarone mi hanno consigliato una soluzione sola le lenti progressive della galileo per vedere bene da lontano a media distanza e da vicino il tutto con un solo paio di occhiali da ottica quartarone trovi le lenti fotocromatiche transitions e la tecnologia bluestop per proteggere i tuoi occhi dai dannosi raggi ultravioletti e dalla luce blu ottica quartarone ti offre anche la garanzia di adattamento e di pagamenti radiali e ti aspetta nei nuovi locali di viale luigi cadorna 31 33 siracusa ottobre è il mese della prevenzione della vista e del benessere visivo vieni per un controllo gratuito i tuoi occhi lo meritano qualità professionalità e tecnologia sono le caratteristiche che contraddistinguono fisior e medical center una struttura poli diagnostica con più di dieci anni di esperienza specializzata in diagnostica radiologica e riabilitazione fisica che si serve di attrezzature e strumentazioni all'avanguardia il sistema di risonanza magnetica open mark 5000 rappresenta la nuova generazione di risonanza magnetica a medio campo questo sistema combina le elevate prestazioni dell'alto campo con il vantaggio di un'architettura aperta questo permette di ridurre sensibilmente la sensazione di ansia del paziente dotarci di questo macchinario ci permette di ampliare la domanda di esami diagnostici per quanto riguarda l'osso articolare adesso riusciamo a dare anche un'offerta per quanto riguarda la parte neuro fisior e medical center la trovia siracusa nuova apertura fisior e ammodica al centro commerciale la fortezza bene rieccoci studio per questa edizione di tris sicilia come avete ascoltato dalle anticipazioni parliamo in apertura del ponte del mediterraneo sullo stretto di messina perché la sicilia è pronta è pronta a investire oltre un miliardo di euro il governatore dell'isola renato schifani ha detto priorità nazionale faremo la nostra parte il servizio d'apertura disponibilità a investire oltre un miliardo di euro per cofinanziare la costruzione del ponte sullo stretto di messina il governo regionale all'unanimità lo ha confermato nella riunione di giunta di questa mattina l'investimento consentirà alla sicilia di compartecipare con una quota del 10 per cento alla costruzione dell'infrastruttura che collegherà l'isola alla calabria il costo complessivo dell'opera è stimato in circa 12 miliardi di euro la regione siciliana nel dettaglio contribuirà con un miliardo di euro provenienti da risorse della nuova programmazione del fondo sviluppo e coesione e con ulteriori 200 milioni frutto di economie relative a risorse nazionali per il ciclo 2014 2020 non ancora spese con questo provvedimento di apprezzamento della giunta affermato il presidente della regione siciliana renato schifani abbiamo posto le basi per imprimere un'accelerazione determinante alla costruzione di quella che sarà un'infrastruttura strategica per il futuro della sicilia se dopo più di 50 anni il ponte sullo stretto si avvia a diventare realtà dobbiamo ringraziare in particolare il ministro salvini sempre attento alle esigenze del mezzogiorno della sicilia in particolare con questo cofinanziamento inviamo un segnale chiaro a tutta l'italia ha detto ancora il governatore dell'isola per dire che il ponte è una priorità nazionale e che la nostra regione è pronta a fare la propria parte matteo salvini è riuscito dunque a far inserire il finanziamento statale del ponte del mediterraneo una notizia sicuramente positiva per la sicilia detto enzo vinciullo che si attendeva da tempo e che smentisce e mette finalmente in silenzio tutte le cassandre di turno che si auguravano e speravano che questa notizia non si concretizzasse mai finalmente dice ancora l'ex parlamentare regionale si gettono le basi per far uscire la sicilia dall'isolamento durato secoli cambiamo decisamente argomento un'intera comunità ha partecipato a solarino ai funerali di fabbio vita il centauro morto due domeniche fa a causa di un incidente di moto lungo le strade di ispica vediamo il servizio un lungo applauso ha rimarcato l'estremo saluto che solarino ha reso a fabbio vita il 35enne centauro che ha perso la vita due domeniche fa uno striscione che campeggia davanti al serrato della chiesa madre solarino augura buon viaggio a fabbio un messaggio sincero come la presenza delle numerose persone al rito funebre ufficiato dal parroco donna luca saraceno il quale ha evidenziato nella sua media lo spirito di solidarietà che albergava in fabbio un'intera comunità quindi si è stretta attorno al dolore della famiglia rendendo omaggio a un ragazzo che ha lasciato il segno con la sua bontà d'animo con l'altruismo con l'impegno nel sociale la comunità solarinese si era già preoccupata nell'aver appreso la scomparsa nel nulla di vita e sui social erano corsi gli appelli a chi potesse dare sue notizie lunedì poveriggio però le speranze di poterlo ritrovare in vita sono risultate vane la tragica notizia è giunta familiare dai carabinieri di ispica che hanno ritrovato il corpo esanime di fabbio finito con la sua moto in un dirupo fabbio era un appassionato di moto anche in quella tragica domenica stava viaggiando in sella alla sua due ruote si era regato a pozzallo e la sera stava facendo ritorno nella sua solarino ma il destino crudele lo ha atteso in una delle strade che aveva transitato già tante volte ma che evidentemente non conosceva abbastanza per evitare la morte fabbio vita era anche uno sportivo e aveva fatto parte lo scorso agosto di uno degli equipaggi dell'ultima regata dei quartieri storici di siracusa una maglietta celebrativa è stata adagiata sul feretro siamo soddisfatti del risultato perché comunque chi sono arrivati davanti a noi erano molto più allenati sono professionisti sono di proprio fanno questo come sport quindi siamo contenti del risultato è terminata l'operazione focus on the road l'operazione promossa dalla road pole european network è un'operazione quindi della pol strada sono state accertate ben 213 violazioni del codice della strada vediamo il servizio oltre 200 le infrazioni al codice della strada contestata a conclusione dell'operazione focus on the road portata a termine dalla pol strada i controlli hanno interessato tutto il territorio nazionale finalizzati al corretto utilizzo di telefoni cellulari smartphone cuffie sonore al corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e dei dispositivi di ritenuta in genere lo scopo è sempre quello di ridurre il numero di vittime sulle strade di incidenti stradali in adesione al piano d'azione europeo 2130 con operazioni congiunte di contrasto alle violazioni e campagne tematiche profigo l'impegno della polizia stradale in provincia siracusa che ha attivato mirati dispositivi di controllo sulle strade con l'impiego di pattuglie appositamente formate ed equipaggiate nel corso dell'operazione sono stati attivati 20 posti di controllo che hanno consentito il controllo di 226 veicoli accertato 213 violazioni alle norme del codice della strada di cui 34 elevate per l'uso del cellulare durante la guida e 61 a causa del mancato uso della cintura di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini tre utenti si sono visti ritratta la patente di guida a causa del proprio grave comportamento alla guida e 560 sono stati punti decurtati sulle patenti di guida dei conducenti l'uso dei cellulari mentre si guida è stato individuato come la prima causa di distrazione dei conducenti e il mancato uso dei sistemi di ritenuta corre il rischio che i medesimi vengono sbalzati fuori dal veicolo con conseguenze molto gravi lo scopo come dichiarare il dirigente alla polstrada di Siracusa Antonio Capodicasa è richiamare l'attenzione del mondo degli adulti alla massima responsabilità e alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla specifica normativa per proteggere la propria vita e quella degli altri utenti della strada Parliamo di scuola adesso di autonomia scolastica è diventata una vera e propria question l'istituto superiore insolera di Siracusa rischia di essere accorpato e quindi di perdere l'autonomia il grido d'allarme viene lanciato dalla Lega Dopo l'istituto comprensivo Verga c'è il rischio che anche l'istituto insolera di Siracusa possa perdere la propria autonomia per il responsabile della Lega Anzio Vinciullo occorre battere i pugni sul tavolo adesso per impedire l'accorpamento che farebbe scendere a otto il numero degli istituti di scuola media superiore in città con una media studente di oltre un migliaio per istituto l'insolera deve mantenere la propria autonomia grida il coordinatore della Lega nelle città di Siracusa frequentano gli istituti di istituzione superiore 8.151 fra alunne e alunni e a fronte di questo numero così importante abbiamo solo 9 istituti superiori se proviamo a dividere 8.160 cioè il numero degli alunni che frequentano le scuole superiori per 9 che è il numero degli istituti superiori viene un numero significativo cioè 907 alunni quindi secondo Vinciullo siamo dentro la media prevista al Ministero per mantenere l'autonomia di un istituto pertanto non si capisce perché l'insolera dovrebbe perdere la propria autonomia se l'istituto Filadelfo in Salera dovesse perdere l'autonomia 8.160 bisognerebbe dividerlo per 8 e la media del numero degli studenti sarebbe pari a 1.020 c'è un dato molto al desopro di quello previsto dal Ministero da un breve esame del numero medio di alunni per la città capologo di provincia nessuna città ha un numero medio così alto di studenti quindi non si capisce il motivo per il quale la città di Siracusa debba perdere un altro istituto superiore un ampio fronte comune contro le ipotesi di tagli è quanto emerso ieri sera al termine della duranza aperta del Consiglio Comunale di Siracusa convocata per discutere sul dimensionamento scolastico l'obiettivo della riunione era dunque di conoscere la necessità della popolazione scolastica a salvaguardia delle specificità territoriali del rafforzamento del tempo scuola e del personale a garanzia del diritto allo studio e della lotta alla dispersione puntando all'obiettivo di avere in Sicilia 961 di lezioni in tutto a partire dal prossimo anno scolastico rischiano di essere accorpati gli istituti con almeno 600 alunni 400 per i comuni montani criterio che a Siracusa mette a repentaglio la sopravvivenza dell'istituto Gindemi, della Martoglio e della Brancati di Belvedere quest'ultima vedrà ridotto il numero degli alunni se come ipotizzato i due pressi di città giardino saranno trasferiti all'istituto comprensivo di Medilli un discorso a parte merita il verga soppresso per quest'anno ma che dal 2024-25 potrebbe ottenere nuovamente l'autonomia a discapito della Martoglio possibilità che questa dovrà comunque essere confermata dal giudizio pendente davanti al TAR e promosso dal Comune a tali criteri non sfuggono nemmeno le scuole superiori affanne le spese dovrebbe essere proprio l'inzolera intanto una notizia che vedete alle mie spalle Alessandra Furnari è stata confermata Presidente Provinciale d'Italia Viva la nomina è giunta a conclusione del primo congresso del partito di Matteo Renzi prende via una nuova fase del partito ha detto la Furnari che proseguirà nei prossimi mesi con una nuova fase congressuale per i circoli territoriali avere la voglia di esserci e di partecipare attraverso la votazione online o recandosi fisicamente nel seggio anche e soprattutto nei casi di candidature unitarie è sicuramente un dato che non può essere sottovalutato e che ci dà la spinta per lavorare sempre più intensamente per far crescere la nostra comunità quindi complimenti ad Alessandra Furnari per il nuovo incarico Cambiamo ancora argomento avevano adesso la cronaca avevano anche sequestrato ad un assuntore di stupefacenti la CARD per riscuotere il reddito di cittadinanza pensate una garanzia per il pagamento delle dosi consumate è quanto emerge dall'operazione antidroga che è stata eseguita dai carabinieri ad Augusta vediamo non vorrei che stessi con me solo perché ti procaccio la droga questo è il timore di uno degli indagati coinvolto in l'operazione antidroga portata a termine dai carabinieri incontrata a SCARDINA ad Augusta nella quale sono state coinvolte sette persone per cinque delle quali è scattata la misura cautelare il presunto spacciatore intercettato dagli investigatori ha ricevuto una risposta confortante dalla donna che dice di volergli bene per gli inquirenti la tossicodipendente strumentalizzava la propria relazione con uno degli indagati chiamandolo più volte al giorno messaggiando per avere continue cessioni di stupefacenti alla casa circondareale di Cavadonna sono stati tradotti Marcello Alberghina Antonio Corrado Cannarella Antonino Spina Francesco Bandiere Sebastiano Verde la misura cautelare dei domiciliari invece è stata notificata a Lorenzo Belfiore mentre la misura personale del divieto di Mora a carico di un altro augustano i sette a volte acquistavano lo stupefacente tra loro anche indebitandosi in almeno un caso uno dei sette indagati è arrivato ad aggredire un altro spacciatore con calci e pugni per farsi restituire la somma di 1300 euro di stupefacente non pagato promotore del gruppo sarebbe un 54enne augustano già noto agli ambienti giudiziari che non si fidava degli spacciatori al dettaglio e si faceva pagare le partite di droga oltre che presso le rispettive abitazioni i contatti tra indagati e assuntori avvenivano spesso in strada in luoghi affollati addirittura persino alla porta spagnola o ancora utilizzando le cassette condominiali delle lettere come luogo di scambio del denaro stupefacente evitando così contatti diretti tra venditore e acquirente numerosi erano infine torsi guvendenti per settori di reddito di cittadinanza che utilizzarono la relativa carta come pegno del futuro pagamento dello stupefacente consegnando allo spacciatore anche il numero di PIN per prelevare in autonomia il denaro come vedete alle mie spalle montagne di immondizia che continuano a esserci a essere dislocate un po' dappertutto in città questa volta i riflettori del video operatore Giorgio Nani la terra puntano sulla zona di Tremiglia nelle vicinanze di un antico e nobile edificio presce appunto una discarica a cielo aperto ci troviamo presso il villino Bonanno dove nel 1800 lo stesso progettista architetto Schinkel vi soggiornò per raccontarvi una situazione di discarica che praticamente sussiste su una strada la strada appunto di Tremiglia sulla carreggiata e che purtroppo ha fatto sì che questa strada venisse chiusa quindi facendo vincere l'illecito qua siamo nel 2022 non si può preferire l'illecito invece il quieto vivere qui vediamo proprio la strada transennata proprio perché vi si entra dentro a scaricare essendo un luogo appartato come è ormai consuetudine qui a Siracusa ogni luogo appartato viene utilizzato come discarica dice qua non mi vede nessuno prendo e scarico e si scaricano tonnellate di rifiuti quindi ovviamente qui addirittura è in mezzo a una strada e sono mesi che è così perché l'ho anche documentato nelle prime puntate che ho fatto qui su Tele 1 Tris e la situazione è semplicemente peggiorata non solo non si è tolto quello che praticamente già c'era ma ovviamente se ne è scaricato ancora di più ecco quindi intervenga chi dovere a ripristinare lo stato dei luoghi rendere fluibile la via e ovviamente mettere le telecamere per tutelare chi ha qui i terreni chi ha in proprietà il villino in maniera tale che la zona diventi sicura e le telecamere stesse facciano da deterrente a chi invece è malintenzionato si invitano i telespettatori ad inviare al numero in sua impressione segnalazione di cumuli di immondizie e qualsiasi altra problematica del nostro territorio sarà cura del direttore del Tg e della redazione fare una valutazione e procedere all'eventuale pubblicazione Siamo allo sport siamo ancora oltre un mese dalla sfida calcistica tra Siracusa e Trapani e il presidente del Siracusa Calcio Alessandro Ricci tende la mano al collega del Trapani Valerio Antonini un messaggio di pace sui social per trasformare in una festa di sport appunto il prossimo match fra le due squadre che sono in testa al campionato di Serie D Un messaggio di pace è arrivato dal presidente del Siracusa Calcio Alessandro Ricci al suo pari di Trapani Valerio Antonini un modo amichevole per trasformare in una festa di sport la partita tra Azzurri e Granata in programma il prossimo 26 novembre Un invito sincero vista la nota rivalità tra le due tifoserie per stemperare l'atmosfera e creare un ambiente ospitale Dopo il goliardico invito arrivato sui social dai tifosi Ricci ha scritto rivolgendosi proprio al presidente del Trapani Sarà un piacere averlo ospite a Siracusa e proprio con lui vorrei inaugurare la cena dei presidenti ha detto Ricci per trascorrere qualche ora insieme con le famiglie prima della partita e per dimostrare che la realtà sportiva non deve mai coincidere con l'astio Sono convinto prosegue il presidente del Siracusa che proprio con il contributo di Antonini che ispira una naturale simpatia potremo provare a dare una nuova storia ai rapporti tra le due tifoserie Sono certo che anche il presidente del Trapani da uomo di sport ritenga che prima e dopo la partita sia giusto darsi la mano e complimentarsi con il vincitore Per questo attendiamo di averlo nostro ospite per vivere una bella giornata di sport e anche noi accettiamo la sfida sportiva tra due squadre che stanno tenendo alto il nome della Sicilia che pur non essendo siciliani amiamo Goliardica ma forse fino a un certo punto la risposta del presidente del Trapani Amici di Siracusa accettiamo la vostra sfida sarò presente il 26 novembre per vedere la partita per vincere la mia squadra a voi grazie per avermi invitato spero che sia un invito con toni piacevoli io ci sarò il Trapani vincereà C'è veramente un clima di grande entusiasmo in Casa Azzurra non potrebbe essere altrimenti visto l'inarrestabile l'orino di marcia del Siracusa sottolineato anche dai due dei protagonisti di domenica scorsa l'argentino Sus e Matteo Di Paola vediamo le interviste Protagonisti in campo e fuori dal campo Joaquin Sus e Matteo Di Paola sono l'emblema del periodo entusiasmante che sta attraversando il Siracusa a calcio in vetta solitario alla classifica l'argentino domenica ha siglato il suo primo gol in maglia azzurra il centrocampista ha servito un assist vincente Certo, il mister sa che ha un grande gruppo a disposizione noi ci alleniamo tutti i giorni lasciando il meglio in campo per poi essere pronti per la domenica Tu hai giocato in Serie D soprattutto nell'altro girone questo è davvero un girone che somiglia per quanto riguarda le squadre di vertice più a una Serie C perché insomma Siracusa, Trapani, Vibonese sembrano squadre nettamente superiori alle altre e lo confermano anche questi risultati Sì, sì c'è anche la regina che quando l'abbiamo incontrato la partita è stata a un ritmo di un'altra categoria e mo' ci riposiamo ci prepariamo anche per affrontare quelle altre che sono quotate come noi Sono molto contento e niente mi trovo molto bene con Alma, con Zampa con tutti quanti in generale e niente Enrico, Giuliano, Domenico, Mimmo, Maggio anche dall'altra fascia insomma la squadra è molto bella è completa e io sono molto contento di stare qua in questa squadra e qui a Siracusa io sono venuto qua per dare tutto e per provare fino alla fine a raggiungere il mio sogno è quello di fare il calciatore di rinunciare un obiettivo Dal calcio alla palla a mano con la prima giornata del campionato di Serie B maschile tra conferme e sorprese molte le partite equilibrate in un torneo davvero incerto È iniziato il campionato di Serie B di palla a mano regionale maschile con una prima giornata che ha subito messo in evidenza quelle che potrebbero essere le protagoniste del torneo organizzato dal Comitato Regionale Sicilia presieduto da Sandro Pagaria tranne per la larga vittoria casalinga dell'Alcomo sui giovanissimi dell'Albatro Siracusa confermando così di essere una delle pretendenti alla vittoria del torneo tutti gli altri incontri sono stati caratterizzati dal costante equilibrio che fa prevedere un campionato molto avvincente e incerto Al netto della vittoria esterna della palla a mano Marsala nell'anticipo di giovedì scorso al Palacus contro gli universitari palermitani quello che ha prevalso è stato il fattore campo Attraverso l'emittente Trissi Sicilia che trasmette in diretta le principali partite del campionato è stato possibile assistere all'incontro tra Alcomo e Albatro Siracusa è stata una gara quasi a senso unico che ha visto i padroni di casa prevalere sugli ospiti i siracusani però hanno mostrato grande carattere e voglia di crescere questi i risultati della prima giornata del campionato di Serie B Cus Palermo Pallamano Marsala 37 a 38 Scicri Social Club Etna Masca Lucia 25 a 24 Girgenti Bic Team Messina 25 a 20 Aretusa Siracusa Agri Blu Scicri 32 a 27 Alcamo Albatro Siracusa 51 a 25 Villa Aurea Palermo Pallamano Ragusa 26 a 23 La classifica vede a due punti Marsala Scicri Social Club Girgenti Aretusa Alcamo e Villa Aurea A 0 punti Cus Palermo Etna Masca Lucia Bic Team Messina Agri Blu Scicri Albatro Siracusa E Pallamano Ragusa Siamo in chiusura di telegiornale Vi ricordo ancora una volta che nella pagina ufficiale di Facebook di Tris potete trovare cliccando su messaggio la chat di Whatsapp dove potete fare segnalazioni chiedere informazioni e tutto quello che possa servire che fa parte di questa emittente televisiva Il telegiornale si conclude qui ma in coda al telegiornale ancora una volta l'approfondimento l'approfondimento di oggi che è dedicato a un 57enne davvero straordinario di Canicattini si chiama Sergio Carpinteri pensate ha conseguito di recente la tredicesima laurea un record che addirittura intende incrementare vi lascio all'approfondimento è tutto per il telegiornale grazie per averci seguito A 57 anni il professor Sergio Carpinteri da Canicattini Bagni ha fatto incetta di lauree ne ha conseguiti ben 13 un vero record che intende incrementare per arrivare al tetto dei diplomi di laurea detenuto da un anziano di Velletri che di titoli accademici ne ha conseguiti 17 intanto la vediamo con questa miss abbastanza tricolore patriottica perché? perché è stato l'argomento della mia tesi il tricolore e ho progettato questa toga per gli artisti dell'Accademia di Belle Arte penso che sia la miss giusta per l'artista accademico italiano le stiamo vedendo qui alla parete sono 13 diplomi di laurea innanzitutto come ci è arrivato a questo traguardo? capirà per uno che si era ritirato da scuola è veramente una bella vittoria come ci sono arrivato? mangiando mangiando come si dice comunemente la prima, la seconda, la terza ho capito che l'arte va studiata in tutti i suoi punti e la sto studiando per me per un mio percorso personale lei diceva appunto che durante la scuola media superiore ha abbandonato poi com'è che c'è chi l'ha spinta a riprendere? ebbè le percorse della vita è morto mio padre dovevo trovare a me anche un lavoro io pensavo che con l'arte si potesse fare tutto invece non è stato così allora ho ritornato un po' indietro sui miei passi e mi sono riscritto di nuovo in Accademia e da qui inizia un percorso la sua prima laurea qual è stata? la mia prima laurea è stata pittura perché tutti i carpinteri siamo tutti figli d'arte dipingiamo, facciamo sculture però poi mi sono un po' allargato anche a questi nuovi linguaggi che potrebbero essere la pittura contemporanea l'ultimo che ha preso invece diceva questo proprio sulla pittura contemporanea è mediazione culturale didattica del museo sono due percorsi assieme fatti in un anno tempo record dovrebbero essere due anni perché già avevo delle materie che mi sono state convalidate ed è stato un bel percorso perché ho imparato veramente tante cose forse una delle più belle che ho fatto fino ad oggi il rettore il presio di facoltà arrivano eccolo qua di nuovo ma mi sa tanto che non è possibile più riscrivermi in questa Accademia anche perché hanno anticipato un po' troppo le date di iscrizione perciò io ho sporato dovevo finire quel lavoro là però certo io ho fatto una mia richiesta che ancora non è stata vagliata di riscrivermi lo stesso d'altronde erano poche giornate che erano andate via ma non ho avuto una risposta ancora certa certo che voglio continuare i miei studi perché è bellissimo io lo consiglio a tutti studiare ognuno deve trovare nella sua vita un suo percorso io penso di averlo trovato dello studio della ricerca dell'arte che poi è la mia stessa vita questa casa che poi la casa di famiglia è diventato un museo nel frattempo è anche uno studio il suo studio è uno studio è una casa d'artista ho fatto la tesi che si chiama proprio così io sono un museo perché le cose mi hanno invaso perciò la casa mia è invasa di cose antiche ed è quest'anno è il ventiquattresimo anno che siamo aperti da una vita e forse penso che sia uno dei musei della Sicilia più meno anzi meno conosciuti da conoscere perché è veramente sorprendente con le sue sede di questa è una prima sede ce n'è un'altra in centro e si presume che con 13 lauree dicasi 13 lei abbia un lavoro eccezionale sono disoccupato da un anno e mezzo e anzi cerco lavoro ne approfitto anche di voi per fare un annuncio perché devo anche vivere oltre a studiare io penso che posso collimare tutte le cose non toglierò né a una né l'altra niente però penso che sia una vergogna ma non mia italiana che un signore come me con 13 lauree non lavori in nessun posto io ho cercato lavoro ma sono scritto al collocamento un po' tutto ma non lavoro è un'altra curiosità insomma in qualche modo adesso lei ha un obiettivo come dico tipo Guinness dei primati oppure no sì ma il Guinness già ci siamo io penso che in Italia ecco l'ho detto anche prima sono il primo che ha preso due lauree in un anno cosa impossibile sono stato il primo di tutte le accademie italiane a prendere due lauree e fare questo percorso che chiamano anche in inglese double degree l'idea mia è sì già è un primato perché al mondo non esiste nessuno che ha 13 lauree artistiche c'è chi ce ne ha anche 17 ma non di arte ecco di tante cose io mi voglio specializzare nel mio campo che poi è l'arte che ripeto è la mia vita come vedete grazie a tutti